Avrebbe reinvestito soldi arrivati da un presunto traffico di droga. Gli investigatori al termine dell'indagine hanno formulato nuove accuse nei confronti della 36enne Emanuele Brancato, negli scorsi anni coinvolto anche nell'inchiesta Samarkanda e in altre vicende sempre legate allo spaccio di droga. Difeso dall'avvocato Giacomo Ventura ne deve rispondere davanti al gruppo del tribunale. Il legale ha presentato diversa documentazione che attesterebbe la situazione economica di Brancato da collegare ad attività esclusivamente lecite. Atti che il GUP Silvio Passani si valuterà. Nell'inchiesta è coinvolto anche un imprenditore locale attivo nel settore dell'edilizia. Gli viene contestata una presunta operazione illecita attraverso la compravendita di un'automobile, una BMW. Acquisto che gli inquirenti non escludono possa essere stato volutamente predisposto per coprire il passaggio di soldi ritenuti sporchi. L'imprenditore è difeso dall'avvocato Joseph Donegani a sua volta escluso qualsiasi illecito nelle attività di compravendita della vettura. In aula si tornerà a gennaio e probabilmente le difese si esprimeranno anche su possibili riti alternativi da sostenere. Le attività di accertamento da parte degli investigatori vennero avviate anche sulla scorta di altre indagini antidroga.